Abbiamo recuperato piante e fioriture molto rustiche, che vuol dire molto forti. È evidente che se vengono delle piogge torrenziali non c'è problema, se arriva una grandinata di mezz'ora è una criticità in quello, però insomma siamo ottimisti, incrociamo le dite e speriamo che non grandini. Ecco, diciamo che i preparativi sono ancora in atto, siamo comunque certi, insomma per il 21 di aprile sarà tutto pronto per fare il ricettatore. Certo, allora tutti i nostri quadricenografici, che sono quelli in rosso, sono presso che pronti all'80%.